La tana del frerito Oh 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 Va bene vediamo che c'è il live su Twitch Come possiamo tirare in mezzo così a caso Giusto per fare una piccola un piccolo check Oh chi è questa? No piccino Tra essermi Innamorato di nuovo Aratata Che bella Hai un viso Davvero angelico Posso Grimbo Dirtelo Su stream yard Dai È lui? No Sì sono io cavolo Mi sbaglio io No no non ti sbagli Non ti sbaglieresti mai È un vero davvero angelico Grazie È il vero Grimbo Davvero grazie Raga aspettate Sono un attimo confusa No 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 Oddio se ha quel tuo Quella torra d'ora Non posso dirlo Il mio anime preferito Non so neanche cosa sia Streaming No è una piattaforma di videocall Raga aspettate perché siamo così tanti Ma io stavo guardando tranquilla Platform Funziona Non ho mai fatto una live No no tranquilla Tranquilla Non so come funziona No 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 vai Vai trova Mi sto parlando male Io sto parlando male Ho mai fatto con il panico cristo No 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 è una bomba No Può prendere il tuo pazzo sulla mensola dietro Ah quello lì è Eurel No 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 non voglio essere di Vabbè avete capito che cos'è Dai entrai Ma non mi è arrivato nessun link No 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 ma perché aspetta devo crearlo Un secondo No 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 aspetta Ok te l'ho mandato Te l'ho mandato Mamma mia Te l'ho mandato Perché non mi è arrivato su stream Qua su streamlabs Non mi è arrivato niente Ma non arriva su streamlabs Non è una piattaforma di chat È scartato Mamma mia Eccola Oddio Ciao cavolo sei tu Sì Aspè aspè Ciao Non lo so Mi senti? Sì io ti senti Tu mi senti? Sì 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 Ti sento come Allora ti spiego come entrare dal computer Ok? Sì è che appunto Mi dice che devo creare le altre applicazioni No no te lo spiego io Te lo spiego come sei entrata dal computer Tranquilla Ci penso io perché sono una persona gentile Tu sei fidanzata? Sì Non si può entrare da computer Senza l'OBS Quello nuovo Non so se hai fatto l'aggiornamento Nel 16.9 No sono un po' impedita Io a dirti la verità Mi sa che non si può Se no Se attiva bene dal telefono Non so se per te Cioè mi sa che c'è del lag Il lag è un po' la cam Credo Un pochino C'è un po' di Sotta Mi senti? Sì sì io ti sento Sì sì ti sento No al punto che anche dal computer A me il lag è più l'audio C'è un po' di differenza tra l'audio E il video Quindi non Simone Io non vedo neanche i commenti Eh lo so che c'è ritardo tra l'audio e video Perché tu senti del video? Eh lo so Dovresti sistemare Sì 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 Lo so Ma Ma non posso fare Poi le cose Sì quelle che dici Ma come possiamo fare Dovresti Un po' di